Trentotesima giornata del donatore si è svolta ieri a Gela promossa dall'ADAS preseduta da Enzo Emanuello. Un momento di condivisione per ringraziare quanti contribuiscono saltoremente o abitualmente a mantenere la donazione del sangue. L'iniziativa si è svolta nei locali del Cineteatro Antidoto di Macchitella. C'è davvero un grande riscontro da parte del donatore. Noi ci accorgiamo che i donatori quando vengono ad affollare l'unità di raccolta o vengono in sede e vengono davvero con il sorriso tra le labbra e questo è una cosa che mi riempie di gioia perché, ripeto, associare la donazione alla freschezza di un gesto così bello e al sorriso è quanto di più bello possa ricevere una persona come gratificazione. Stiamo adeguandoci anche con delle app particolari, la Smart Donor per esempio. Questa è un'altra applicazione che comunque i donatori potranno attivare non appena finirà il momento di così, al momento è un'applicazione che è in prova. E poi niente, poi a noi piace tantissimo vedere l'ADAS sia all'unità di raccolta che la nostra sede, sempre piena di gente, sorrisi, tanta allegria. È chiaro che comunque ci vuole la professionalità di tante persone che comunque fanno il bene e il proprio dovere ma è giusto che questo gesto venga fatto con la giusta allegria e la giusta gioia perché donare è proprio un momento di gioia. La manifestazione è stata presentata da Giacomo Giurato e da Monica Bevelacqua tra i presenti anche il sindaco Domenico Messinese. Un piacere per me essere qui presente, anzi vi ringrazio per l'invito speriamo che con la semplicità e con la generosità che vi caratterizzi il nuovo anno prosegua come sono stati gli anni passati. Non è facile fare quadrare i conti a livello economico ma ci sono di fare delle scelte e sicuramente tra la possibilità di dare, di salvare una vita credo che le scelte sono un po' vincolate quindi è chiaro che l'amministrazione cercherà di essere il più possibile vicino alle associazioni tutte. Il Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana È uno dei tanti segni, certamente questo è un segno, forse quello che si vede di meno in realtà ma è uno dei tanti segni di solidarietà vera, di apertura, di attenzione all'altro quell'altro che ha un volto e a volte può anche non avere un volto conosciuto però nonostante tutto lo si tratteggia dentro il proprio cuore, lo si sente Cioè immaginiamo che cosa significa che un'altra persona porta il mio sangue e comunque ci portiamo il sangue vicentevolmente Che significa? Significa che davvero siamo tutti consanguinei tra virgolette cioè appartenenti all'unico Adamo e è da qui che dovremmo sempre più riscoprire il senso della nostra fraternità La serata è stata chiusa dal comico palermitano Antonio Pandolfo con il suo spettacolo Pandemonio Grazie